Via libera di Bruxelles alla manovra economica italiana, lo ha deciso la Commissione europea che ha deciso di non aprire una procedura contro l'Italia dopo l'analisi della legge di stabilità. Per la Commissione è stato promosso anche il Jobs Act perché ha fatto decisivi cambiamenti nella legislazione di protezione del lavoro e nei benefici per la disoccupazione.